Grazie alla collega Roberta Lanfredini, grazie ai giovani che mi hanno invitato, come sapete la mia alma mater è stata a Firenze, quindi sono molto contento di essere qui, non è la prima volta che parlo in questa sala dei 500, però è sempre una grandissima emozione e come vedete ho una camicia viola, non per imitare il vostro sindaco, ma perché il viola mi piace e mi è rimasto nel cuore, perché ho passato a Firenze gli anni forse più importanti e più formativi della mia vita. Sono molto contento anche di avere ascoltato, di avere rivisto Petazote dai con il quale abbiamo fatto nel corso degli anni tante cose in comune, tante discussioni e vorrei proprio riprendere un tema che lui ha posto, no ma forse prendo questo perché preferisco, sì perché mi dà una maggiore libertà di movimento, non perché voglia fare il judo naturalmente subito, ma mi dà una maggiore libertà di movimento anche nella parola. Riprendo il tema che toccava all'inizio Petazote dai, cioè il tema del rapporto fra la paideia e l'atletica, la formazione come modellamento, la formazione come disciplinamento, se si vuole anche la formazione come standardizzazione, è un tema molto presente all'interno della civiltà greca e tra l'altro anche il concetto stesso di stadio, stadion è in greco una unità di misura dello spazio e quindi in qualche modo appartiene anche al paradigma del disciplinamento, del disciplinamento spaziale e naturalmente sapete anche che tutte quante le categorie che si formano nel greco classico a partire dalla radice europea ar, arta, arete, aristos e via dicendo, sono delle categorie che rimandano a una idea di rettitudine insieme geometrica e morale, geometrica e morale. E naturalmente come diceva molto bene Petazote dai, l'atletismo greco è una sorta di prototipo della forma di civilizzazione occidentale, ma mi veniva in mente la battuta che farò ora, c'è un bellissimo testo di Ortega i Gasset sulle origini sportive dello Stato che in qualche modo dà un po' un'idea simile a quella delle cose che sto dicendo. In Italia conosciamo bene anche in alcuni leader politici la commissione tra lo sport e la politica, il disciplinamento che ha a che fare con la politica. Una rapidissima considerazione però sul tema dell'ost passaggio, del passaggio a Oriente che in qualche modo ci coinvolge nel discorso di oggi, come diceva nella sua introduzione iniziale, Roberta Lanfredini. Il judo non è la stessa cosa della standardizzazione atletica occidentale, è piuttosto una relazionalità dinamico conflittuale. Come sapete Do in giapponese significa via, Tao, la stessa cosa del Tao, è la via. Come Halaka in ebraico è la via, non è la standardizzazione. Judo è la via, se volete, della cedevolezza, è la via in qualche modo efficace dell'adattabilità, se volete anche dell'adattabilità. Nel judo si può contrastare l'avversario soltanto se si accondiscende al gesto che compie contro di voi, vi è una forma dunque che è insieme conflittuale e relazionale. Quindi l'idea dell'adattabilità e quindi non l'idea di una sorta di protocollo, non un protocollo atletico, un protocollo atletico assoluto, ma vi è l'idea della cedevolezza. E soltanto la cedevolezza è efficace, efficace all'ottimizzazione della potenza mentale oltre che della potenza fisica. E non dimentichiamo che sempre nel judo è ai fini della realizzazione di una forma superiore di socialità. da questo punto di vista il judo è una forma di palestra cooperativo, conflittuale, interattiva che esalta il momento, come dicevo prima, della relazione. È una palestra nel senso anche classico della parola. La palestra nel senso classico della parola non è soltanto la palestra fisica ma anche la palestra dei seminari, delle discussioni come quella che stiamo facendo stasera. Non a caso in spagnolo il termine palestra è rimasto proprio ad indicare un esercizio che insieme è un esercizio che è anche un esercizio intellettuale e mentale. Vengo molto rapidamente al tema del mio contributo. Mi piacerebbe riprendere i temi di Peter Sloterdijk riguardo al rinascimento, all'idea della rinascita e alcuni aspetti del pensiero italiano che si riproiettano oggi oltre la modernità. Ma il mio tema, come sapete, è potere metamorfosi ed è un tema che si collega strettamente al titolo del nostro incontro, soggetti alla trasformazione. Vi è un'ambivalenza, è stato detto prima molto bene, dell'espressione esattamente come vi è un'ambivalenza dell'espressione soggetti al potere. Soggetti al potere, soggetti alla trasformazione, sono due espressioni ambivalenti. Nel mio ultimo libro che la collega Lanfredini prima ha citato, ho in qualche modo rilanciato il tema del potere contro un certo postmoderno. Penso soprattutto a Rorty, a una posizione di Richard Rorty, uno studioso che pure ho stimato molto, di cui sono stato anche amico. Quando Rorty in una celebre raccolta di saggi, Truth and Progress, cioè Verità e Progresso, tira fuori la idea per la quale il concetto di potere è ormai inservibile. È una sorta di fantasma dell'opera da relegare al più presto nel retro bottega del teatro filosofico occidentale. Ecco, io penso invece che il potere sia una questione quanto mai attuale, ancora più attuale che in passato e lo possiamo visualizzare meglio oggi che sono venuti meno una serie di rigidità della modernità classica. Un autore che a mio parere è ineludibile per capire oggi il meccanismo del potere come viene fuori dopo la vicenda del XX secolo, dopo la tragedia del XX secolo. Elias Canetti, che non è un filosofo di professione, uno scrittore di confine, ma a mio parere appunto Canetti anticipa molti temi che poi sono stati ripresi come i temi di Michel Foucault ad esempio. E direi che Canetti mette in rapporto alcune cose che mi stanno molto a cuore. Le dico in maniera estremamente telegrafica alla morte, alla paranoia, all'ossessione dell'uno, in qualche modo Canetti oppone la molteplicità e le metamorfosi e vedremo poi cosa significa. Ma vi arriva attraverso una anatomia viscerale del potere perché soltanto attraverso questa anatomia viscerale del potere è possibile giungere al rispetto del vivente o, come è stato anche scritto, alla idea di un tema che credo sia caro ai giovani che mi hanno invitato, alla idea della sacralità non della vita ma delle forme di vita. Io sono convinto che l'abuso del termine vita nel dibattito filosofico contemporaneo sia un fatto negativo. C'è già stato un abuso di questo genere nelle filosofie della vita e ogni volta che vi è un'inflazione del termine vita in filosofia vengono fuori cose pessime, ma non solo in filosofia, anche nei fatti. C'è l'enfasi, la retorica, l'enfasi della vita a partire dai primi anni del novecento e poi anche negli anni successivi alla prima guerra mondiale ha portato a soluzioni che con la vita non c'entravano proprio nulla. E allora abbandoniamo questo concetto di vita generico e andiamo alla idea di forma di vita. Ebbene, per Canetti l'idea della sacralità del respiro è legata proprio alla tutela delle forme di vita che si danno. Attenzione ai corpi, attenzione alle loro relazioni, alle relazioni tra i corpi. Anche perché era perfettamente convinto Canetti che noi non abbiamo un corpo, ma noi siamo corpo. Era convinto con Nietzsche che la nostra relazione con il corpo non è una relazione di proprietà, di appropriazione, ma è una relazione invece di identificazione. Non siamo altro. E inoltre questo si può afferrare nel momento in cui noi siamo in grado di guardare l'orrore, l'orrore del potere senza soccombere, il volto di Gorgone del potere. Siamo a Firenze, siamo nella città di Machiavelli, a mezzo millennio dal principe di Machiavelli, dal Machiavelli che Spinoza, non dimentichiamolo, nel trattato politico, non teologico-politico, ma nel tardo trattato politico, definisce l'acutissimus Machiavellus, pensatore della libertà e della vita contro Hobbes, pensatore della paura e della morte. Il riferimento a Machiavelli a mio avviso è fondamentale in quanto la tematica di Machiavelli è stata quella di guardare in maniera spietata al fenomeno del potere e di dire una cosa che nessuno aveva mai in Occidente detto in quella forma. Cioè il potere non è, o meglio la politica non è, la realizzazione della vita buona o della società giusta, ma la politica così come si è data finora è l'arte tecnica per la conquista e il mantenimento del potere. È stato detto in maniera, come dire, secca, asciutta, scabra, ma da lì poi parte un discorso che Machiavelli compie per cercare di capire come è possibile realizzare una comunità che sia in grado a partire da questo realismo appassionato di funzionare effettivamente. Io sono convinto che i realisti appassionati siano molto più fecondi degli utopisti, dei freddi utopisti che alla fine preparano dei disastri. L'atteggiamento di Canetti è un atteggiamento di questo tipo. Il legame che lui mette al centro della sua analisi, come molti sanno, è il legame tra massa e potere e fa emergere come tratto assolutamente costitutivo del potere nel novecento la relazione con la massa. Ma la massa ha un carattere ambiguo, l'esistenza di Canetti è sul carattere ambiguo della massa. E Canetti l'analizza con una, diciamo, con uno strumentario come lo ha definito Furio Iesi essenzialmente antropologico, ma non per questo in politico, cioè uno strumentario che per il fatto di essere antropologico non è affatto in politico. Canetti amava citare una frase del pensatore greco che fra gli antichi aveva fatto della massa e della molteplicità il punto di partenza delle sue riflessioni, cioè Democrito. Una frase di Democrito molto bella, a trovare anche una sola spiegazione, è meglio che possedere l'intero impero persiano. Intero impero persiano. Ma per comprendere il potere non basta l'architettonica dei concetti. E qui anche qui anticipava Foucault su un tema che io non condivido fino in fondo, ma in fondo Foucault nega la possibilità di una teoria del potere. Nega la possibilità di una concettualizzazione del potere. Il potere non può essere imbrigliato in un concetto. E una cosa analoga la diceva appunto Canetti molto prima di Foucault. Uno dei temi centrali di massa e potere, di massa e umat, è la critica del concetto contro l'architettura concettuale che pretende di begreifen, di prendere, afferrare, di concapere la realtà, cioè di impadronirsi della dinamica reale dall'esterno. All'esterno. Tra i fenomeni più inquietanti della cultura umana per Canetti c'è l'elusione del concreto, l'elusione della concretezza dell'esperienza. Il potere è un meccanismo che si costituisce a partire dalla logica dell'identità, da una forma ossessiva di autoreferenza. Il celebre caso Schreber che sta al centro di Masse und Macht è un caso che Canetti interpreta in maniera completamente diversa da Freud, che lo interpretava a partire dal narcisismo e dall'omosessualità. E che invece Canetti interpreta come sindrome paranoica del potere, come una autoreferenza identitaria che spinge Schreber, che era un uomo di potere, a ritrarsi da tutti gli altri, a scorgere in tutti gli altri un pericolo e da volerli o morti intorno a sé o rimpiccioliti o morti o mortificati. La logica dell'identità è una logica che coincide con la logica della sopravvivenza. Il caso del nazismo è da questo punto di vista un caso estremo ma emblematico. La paura del contatto, la paura del contagio, timore, il terrore della contaminazione, il terrore della contaminazione e quindi l'idea, in qualche modo l'idea di una purezza originaria, dell'identità che non deve essere in nessun caso contaminata dall'altro. Nel mondo contemporaneo c'è l'individualismo, ma l'individualismo secondo Canetti è qualcosa di molto diverso da come è stato concepito dagli inizi della modernità. L'individuo contemporaneo è un nuovo narciso che finisce per far parte di quelle che Canetti chiama le masse invisibili. Le masse invisibili sono anche quelle che lui definisce le masse d'attesa, un'espressione che trovo estremamente efficace anche in rapporto alla politica oggi. Le masse di attesa, le masse che sono capaci di trasformarsi in altre forme in tempi di crisi. Dunque il problema del potere non è affatto un problema indebolito, un problema deflazionato, anzi è sempre attuale e diventa sempre più intenso. Per fronteggiarlo, dicevo prima, occorre guardare il volto di Gorgone senza lasciarsi pietrificare. E una delle forme di pietrificazione sono i mimetismi nei confronti del potere. Cioè noi siamo pietrificati dal potere anche quando ne replichiamo le movenze, quando lo imitiamo e non soltanto quando siamo bloccati o repressi dal potere. Anzi, nel mondo contemporaneo il mimetismo nei confronti del potere è la maniera più propria in cui il potere si riproduce. Ma cosa significa guardare il volto di Gorgone del potere? Questa è una frase che Canetti probabilmente aveva sentito circolare largamente negli ambienti del dibattito mitteleuropeo, in particolare viennese, degli anni venti, perché la definizione del potere come volto di Gorgone è una definizione che risale a uno dei più grandi giuristi del secolo scorso, Hans Kelsen. Quando Kelsen a un certo punto dice chi pensa di forare lo schermo del diritto positivo, del formalismo, del formalismo giuridico e pensa di trovarvi dietro, di trovare dietro questo schermo l'armonia del diritto naturale. Si sbaglia. Se noi squarciamo il velo del diritto positivo vi troveremo dietro il volto di Gorgone del potere. Questo è un tema che arriva a Canetti, ma per Canetti guardare in faccia il potere, il volto di Gorgone del potere, quel potere che per definizione agli inizi della modernità non poteva essere mai guardato in volto. Quella bellissima frase delle massime di La Rochefoucauld che dice «Ni le soleil né l'amor, né il sole né la morte si possono guardare in volto». Non a caso il sovrano assoluto che legge le massime di La Rochefoucauld e dopo aver conquistato il potere appunto rientra finalmente dopo una giornata di gloria in cui ha addomesticato l'aristocrazia francese, la nobiltà francese a Versailles. Quindi è il padrone assoluto della Francia, il re sole. Entra nella sua stanza, incomincia a spogliarsi e prende dal comodino il libro delle massime di La Rochefoucauld e legge esattamente quella frase «Né il sole né la morte si possono guardare in volto». Quindi il potere è come un qualcosa che illumina ma al tempo stesso un qualcosa che produce morte. Ebbene per Canetti guardando in faccia la gorgone del potere se riusciamo a resistere alla tentazione dell'assoggettamento o del mimetismo, che sono la stessa cosa, è possibile cogliere la spina del comando, il «befel stachel», la spina del comando, cioè l'angoscia del comando. Cioè vi è un'angoscia, vi è una spina che è presente non soltanto in coloro che subiscono il potere, cioè in tutti i soggetti al potere, anche chi comanda è soggetto al potere in quanto riceve dal potere la spina del comando. Ma vi è un altro aspetto che va messo in campo per cogliere fino in fondo la dimensione del potere così come si è presentata nella sua radicalità nel del secolo scorso. È il nesso tra la dimensione del potere, la logica identitaria e la tendenza alla crescita, alla crescita continua, a un accrescimento cumulativo. Il tema di Canetti è quello della muta di accrescimento, ma la muta di accrescimento che è la forma più arcaica di aggregazione degli esseri umani, ha a che fare oggi con la religione universale dell'accumulazione. La religione universale dell'accumulazione è una religione universale che non si limita ad accumulare le cose, ma accumula anche esseri umani, accumulazione di cose e di persone. Ogni forma di massificazione delle cose del mondo ha a che fare interdipende con la massificazione anche degli esseri umani. Ma questa spinta all'accrescimento fa sì che il potere non possa essere oltrepassato, cioè il potere non può essere superato per la semplice ma decisiva ragione che la figura del superamento, dell'oltrepassamento è la figura del potere, la figura del potere. Cioè il potere è crescita, il potere è superamento, il potere è accrescimento. Cioè il potere in altri termini è crescita senza mutamento di forma, è crescere per poter durare, per poter durare senza cambiare. Il potere in altri termini è assoggettato anch'esso all'imperativo categorico della durata. La durata. Questo è chiarissimo in Machiavelli. Il mantenimento del potere, la durata è una delle prerogative costitutive del potere stesso, l'imperativo categorico del potere. In questo senso è possibile dire che abbiamo delle radici teologiche della idea della crescita e dell'accumulazione. La mia divergenza dall'analisi di Canetti è su un punto che non riguarda temi che io condivido profondamente e che trovo molto fecondi dall'affermazione del nesso tra potere e logica dell'identità e accrescimento. Quindi questa sorta di cumulatività seriale del tempo. La mia divergenza è altrove e riguarda lo sconfinamento in Canetti dell'antropologia e dell'antropologia. La sua affermazione di un continuum tra potere e aggressività animale. Potere e aggressività animale. Io non penso ad esempio che il potere sia un qualcosa che si possa considerare come un prolungamento dell'aggressività animale. Per la semplice ragione che gli animali sono in una relazione assolutamente equilibrata con la propria funzione, la funzione cui sono destinati dalla natura. Anche le bestie più feroci, anche i predatori più feroci, una volta espletata la propria funzione, sono appagati. Soltanto l'animale umano non conosce appagamento perché è caratterizzato dalla infinità del desiderio. Il potere non è un prolungamento dell'aggressività naturale, ma ha a che fare con una dimensione specificamente simbolica. Noi siamo l'unica specie di mammiferi che ci facciamo una guerra intraspecifica. Quando l'etologia ha dovuto con Butullo e altri autori andare a vedere la guerra degli animali, beh sono dovuti andare non ai mammiferi ma alle formiche, la guerra delle formiche e altre cose. Ma noi siamo l'unica specie di mammiferi che ci facciamo la guerra, cioè una guerra tra di noi non il conflitto per l'occupazione di un territorio o altre cose di questo genere, ma la guerra di sterminio, una guerra di sterminio come guerra intraspecifica. Questo è legato alla dimensione simbolica della infinità del desiderio che è una infinità del desiderio che si biforca in due direzioni, la direzione del potere la dimensione della metamorfosi. Dal simbolico in qualche modo nasce tanto la possibilità del potere quanto la possibilità della metamorfosi. Tanto la possibilità dell'ossessione identitaria, della paranoia del potere, ad esempio questo tema della paranoia del potere che oggi è diffusissimo nel dibattito a cavallo tra psicoanalisi più o meno lacaniana o post lacaniana e filosofia, è un tema che in Canetti è stato impostato in maniera chiarissima. Quindi la paranoia del potere come blocco del potenziale di metamorfosi. Cioè se il potere ha una funzione è proprio quella di determinare un blocco delle metamorfosi. per questa ragione il consenso di massa al potere come c'è sempre stato ma come si è manifestato soprattutto nel novecento ha sempre uno stigma funerario, potere a che fare con la massa dei morti dice Canetti, che precede la massa dei vivi. In parte questo ha a che fare con la scena ursene, con la scena primaria, con la scena originaria freudiana, in cui Freud dice il meccanismo che è alla base del potere della guerra nasce da questa scena simbolica primaria. Io, l'io individuale o l'io collettivo pensa che la morte dell'altro sia fonte di vita per me, fonte di energia per me o per il noi. La morte può essere la morte fisica, ma anche la morte simbolica, cioè la mortificazione dell'altro. E tuttavia nel potere vi è una disperazione, vi è anche una forma di disperazione. vi è cioè la ricerca di sicurezza nella fortezza dell'autoaffermazione. Il termine autoaffermazione non è di Canetti ma di Adorno. E quando si cerca sicurezza in una fortezza, la condizione di chi fa questa è una condizione inevitabilmente disperata e disperata. Come dice Adorno, una volta che con Auschwitz la fine del mondo ha avuto luogo, non la si deve più annunciare, ma al tempo stesso, ma al tempo stesso, il controcanto di Canetti, questa totalità dell'orrore, sia pure nella tragedia che ha determinato e anche il contrassegno di una condizione disperata di chi tende a perseguire il potere, come blocco della metamorfosi. Per metamorfosi occorre intendere la potenza creatrice, cioè l'effettiva capacità di diventare altro, cioè di cambiare le nostre vite, ricambiare le nostre vite. Non soltanto pensare ma raggiungere quello che è stato chiamato uno spazio altro. Questo c'è in Canetti anche, questa figura dello spazio altro, un altro luogo che anticipa l'idea di eterotopia di Foucault, ma che in Canetti a mio parere è meno fredda e meccanica di Foucault, perché indica l'idea di uno spazio vissuto, un'espressione che rimanda a Baudelaire oltretutto, che è stato l'autore, grande poeta, grande intellettuale che ha detto non c'è unicamente, anticipando quasi la tesi di Bersot, non c'è praticamente un tempo vissuto, c'è anche uno spazio vissuto, un tema che è stato ripreso nel dibattito contemporaneo da Rilefevre che ha anticipato da questo punto di vista straordinariamente lo spatial turn, la svolta spaziale che caratterizza larga parte della riflessione contemporanea al confine tra filosofia e scienze sociali. Questo tema dello spazio alterno ad esempio è un tema centralissimo oggi nel dibattito statunitense, ma per raggiungere uno spazio o altro non dobbiamo immaginare un superamento, ma piuttosto quella che io chiamo una deangolazione prospettica, occorre salvare la provincia dell'uomo. L'espressione la provincia dell'uomo significa il ritaglio della civiltà umana nel contesto del pianeta e nel contesto degli equilibri ecologici dell'universo. Per Canetti la sola dimensione che può sottrarre la provincia dell'uomo, questa sorta di ritaglio della civiltà e del senso dentro l'infinità priva di senso del mondo, l'espressione di Max Weber, ben presente a Canetti, ebbene la sola dimensione era per Canetti la scrittura, ma si potrebbe forse immaginare che la dimensione in grado di salvare la provincia dell'uomo o meglio dell'umano, per adottare un'espressione meno sessista e meno androcentrica, è la politica e non la scrittura. E da questo punto di vista io sono per riprendere il filo di discorso che va da Machiavelli fino ad Ann Arendt, anche se naturalmente come cercherò di dire alla fine rappresentano due ipotesi opposte, quasi opposte sulla politica, ma su un punto tendono a convergere le posizioni di Machiavelli e quella di Anna Arendt, che appunto a differenza di Marx che pensava che un giorno la politica si sarebbe dissolta nell'autogoverno della società, sia Machiavelli che Arendt erano convinti che la politica fosse l'unica dimensione, l'unica e l'eterna dimensione del nostro essere in comune. Io su questo punto sono in linea con Machiavelli e con Arendt. Io penso che la politica non scompare, non si estingue, che non è estinguibile, anziché più andiamo avanti nell'organizzazione delle nostre comunità umane a un alto coefficiente di complessità, più è necessario un potenziamento della politica. Ma, e qui il punto, vengo alla conclusione del discorso, lo spazio politico va ridefinito rispetto alla modernità, chi vi parla non si è mai identificato con il postmoderno, per le ragioni che avete appena ascoltato. Lo spazio politico oggi, tuttavia, non può essere più concepito nei termini della modernità. Non può essere concepito, cioè c'era stato un cenno della collega Lanfredini prima, nel senso della rappresentazione oggettivante del mondo. Inteso come spettacolo, che sta di fronte allo sguardo, che inevitabilmente poi è lo sguardo dell'elite del potere, di chi è egemone in campo intellettuale o politico o istituzionale, ma piuttosto è l'ascolto in quanto dimensione della relazionalità dinamica e conflittuale. Non la vista è la caratteristica dominante dello spazio della politica oggi, che determina la sindrome spettatoriale, appunto. Una sorta di sindrome, diciamo, barocca, neobarocca della politica nel mondo contemporaneo. Spectator sum in accena, non actor. L'idea che quando uno vede i protagonisti della politica ha l'impressione di essere lo spettatore appunto di un talk show, lo spettatore di una pièce teatrale con maschere di carattere che appunto si avvicendano. E naturalmente anche la riduzione dei cittadini, anche di quella che un tempo era la massa da convincere, in audience, in mera audience, sono tutte delle componenti che vengono a far parte della sindrome spettatoriale oggi della politica. Ma invece l'udito, qui è molto interessante l'enfasi che Canetti pone sul testimone auricolare, il testimone auricolare, cioè che il testimone più importante della storia e della cosa pubblica è quello che è stato in grado di ascoltare e non quello che è stato in grado di vedere, soltanto di vedere. Vi è dunque una sorta di diffidenza nei confronti della vista e un indiretto invito alla politica di riacquisire una capacità di ascolto. Questa capacità di ascolto è l'unica vera chiave metamorfica, trasformativa dello spazio politico. È l'unico vero esercizio di trasformazione che può essere realizzato nello spazio politico. In qualche modo è una condizione questa dello spazio politico ridefinito nei termini in cui ho cercato di dirlo molto rapidamente, situato nel metaxi, nell'interludio, nell'intermezzo fra il fluire informe e la pietrificazione paranoica del potere. Non è né il flusso informe del divenire, né la stasi, la pietrificazione appunto paranoica del potere. mi dispiace che non ci sia qui la collega Boella in quanto avrei desiderato molto interagire con lei sul tema dell'empatia che non mi è affatto congeniale. Nel senso che io sono convinto che Leinfülen non funzioni come chiave dei problemi oggi della relazione. Sono convinto con il grande poeta René Char che sopprimere la lontananza uccide e che le relazioni vadano tutte improntate a una sorta di codice che si fonda su uno simoro, il codice della prossimità distante e non invece il codice dell'empatia. Quindi e d'altro canto non si può normativizzare l'empatia, non si possono risolvere i problemi dicendo alle persone siate empatiche, o uno lo è o non lo è. Diciamo che tutte quante le prescrizioni che si fondano su un dato emozionale, a mio parere, sono delle prescrizioni non soltanto inefficaci ma tendenzialmente anche un po' rischiose. Io sono convinto che ad esempio all'interno delle relazioni sociali, soprattutto in una società policentrica, come si dice oggi, multiculturale o policulturale come la nostra, l'unico modo di relazionarsi sia quello di reimpostare, anche questo è un tema che io trovo molto rilevante in alcuni aspetti del lavoro filosofico contemporaneo, reimpostare il tema, il paradigma della traduzione. traduzione è quella di rivieni che costringe ognuno di noi a rapportarsi all'altro, cercando un po' l'equivalente delle parole che l'altro usa quando parla un'altra lingua. Ma il lavoro di traduzione non è soltanto un lavoro che metta in rapporto individui di differenti contesti culturali e linguistici. Il lavoro di traduzione, il paradigma di traduzione vale anche per i rapporti, anche quelli intimi, tra persone che condividono la medesima cultura e la medesima lingua. Occorre sempre tradursi, altro che empatia, occorre cercare di capire che rapporto c'è tra la parola che uno dice e l'esperienza di quel termine che sta adoperando. Noi è chiaro che possiamo adoperare le stesse parole ma intendere cose diverse, situazioni differenti, emozioni differenti, esperienze differenti. Ovviamente il paradigma della traduzione significa che dobbiamo anche ammettere e partire dall'assunto che ogni traduzione si fonda sul presupposto di un elemento intraducibile. Intraducibile perché la condizione non si danno relazioni fino in fondo simmetriche, c'è sempre una simmetria in ogni relazione che dipende dal nucleo intraducibile che è presente, in ogni relazione anche tra persone intime. E questo è l'unico modo per poter tentare di ricostruire un discorso relazionale, dinamico e trasformativo nel mondo contemporaneo. Prima di concludere una battuta sullo spazio spazio oggi della politica come si è venuto storicamente concretizzando all'interno della città. Io sono convinto da tempo che la politica, proprio nel mondo globalizzato, la politica deve ripartire dalle realtà delle comunità, dei comuni, anche delle municipalità, dei comuni. Io sono convinto anche ad esempio che la politica europea non ha un futuro se viene interamente affidata alle buone intenzioni dei diversi stati nazioni, degli stati membri, alle loro logiche di compromesso e di ricatto reciproco. Io penso che la politica europea abbia un futuro se riparte dalle città, dalla rete delle città. Per la semplice ragione che l'Europa è da questo punto di vista un continente unico e l'Italia all'interno dell'Europa è un paese unico. È un paese che si è venuto formando attraverso le famose cento città, i mille campanili, dove ci sono non soltanto cose straordinarie dal punto di vista artistico e architettonico, ma dove abbiamo una spazializzazione della temporalità, un fenomeno di spazializzazione della temporalità che dà straordinario spessore alla civitas, alla cittadinanza. Questo mi avviso è l'unico modo per poter incominciare a pensare a una prospettiva nuova per l'Europa all'interno del mondo globalizzato. Ma questo implica anche uno spostamento del focus, dell'attenzione, dall'analisi delle strutture alla formazione dei soggetti. Uno spostamento proprio dalle strutture oggettive ai soggetti. E questo può essere fatto però a mio avviso giungendo sia pure per tentativi a superare una divisione, un'alternativa tra i due concetti di politica che hanno finora attraversato l'Occidente. Per un verso il concetto della politica come processo e per l'altro verso il concetto della politica come evento. La politica come processo, come relazione, come processualità, Ann Arendt. La politica come evento invece, appunto, il nostro Niccolò Machiavelli. Dove, ecco, io penso che la politica debba essere le due cose insieme. approfondire il momento relazionale dell'essere in comune, ma al tempo stesso essere in grado di cogliere il kairos, cioè la condizione che è data dalla congiuntura, essere in grado di intervenire sull'evento. Quindi una politica che sia in grado, se volete, anche di cogliere i segni dei tempi, i segni dei tempi, segni dei tempi che nel Vangelo di Matteo non sono indicati con il termine kronos, ma appunto con il termine kairos, se meia ton kairon. Quindi la politica deve non soltanto fare comunità, produrre comunità, non soltanto deve determinare tradizioni, processi, legami, ma deve al tempo stesso essere anche una politica evento che è in grado di decifrare i semei a ton kairon, cioè i segni che i tempi ci danno. È difficile, è possibile.